I documenti probabilmente non erano soprattutto segretati ma è stato in qualche modo inopportuno passare in aula in un momento così delicato. Aspettiamo oggi il Ministro Nordio che farà chiarezza anche su questo punto, se fossero riservati o non riservati, se c'era possibile acquisirli o meno, lo dire a lui oggi è giusto aspettare oggi alle 4, indica la ricostruzione che riuscite a fare. C'è una questione di opportunità da parte del... A livello, se si trate i documenti segretati, più che opportunità è un fatto proprio istituzionale di procedura, se invece non erano riservate ed erano a disposizione di tutti, decade qualsiasi ostacolo. Per caso sarebbe giusta la linea delle dimissioni sia di Pernastro che di Pernastro? No, aspettiamo di capire come sono andate le cose, sulla base di quello che verrà fuori e lo stesso Ministro Nordio ci dirà qual è il cammino giusto per andare avanti.